E non si fa però per fare capire. Allora mi disse, ti va bene se ti diamo 500 mila lire e ci dai il pezzo totalmente. Quindi edizioni e diritti d'autore, tu realizzassi con 500 mila lire. Fece due milioni e mezzo di simboli di disco mix in Giappone. Me li sono giocati con 500 mila lire. Io prendevo 100 mila lire di Giappurro. Si chiamava Forever Lovers e si chiamavano loro Italian Boys. Se volete andare a sentire su YouTube ve la risparmio. E' una canzone che fa così, super giuro. Puff, ish, ish. Mi sa arrivare. E' una canzone che fa così, super giuro. E' una canzone che fa così, super giuro. E' una canzone che fa così, super giuro. Ma di questo è un단one. E' un tanto così. Mi sa parla japanesina. Mi, mi, mi. Mi, 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 mi. E' una canzone che ci dàà. Benкрini. Ben cartridge. Ben Corso! Grazie a tutti.